Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Centro 2 a parte gli scherzi Benvenuti in questa ultima puntata in cui avremo a che fare con i brotherhood La scorsa puntata Maero ci ha invitato qui all'Alterdom E beh, è palese cosa vuole fare, questo sarà il nostro ultimo scontro E credo allora che, perché no? Chiamerò anch'io la cavalleria Chiamiamo il nostro amico Johnny Ma come? Ma come? Johnny, mi abbandoni in un momento simile? E allora ci rifacciamo, chiamiamo Terra Perfetto Non possiamo chiamare nessuno Siamo solo io e te Maero, allora, va bene, vieni a me Lo scontro finale Maero, sono qui E cosa ti sorprendi? Era palese Era palese, sarebbe successo E chi l'ha detto che sono solo? Tan 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 Bene, volete la guerra? La guerra sì, allora Quel tuo maledettissimo monster, tracca Va bene Maero Questo è il nostro ultimo scontro, allora Prima eliminiamo tutti i pesci piccoli Così Maero Madonna mia Che ricerca incredibile di quel colpo è stato Così Maero Saremo Solo Io e te Aia Troppo vicino Preso Preso Mi chiedo se però i loro furgoni siano infiniti a sto punto Mi chiedo se i loro furgoni siano infiniti o meno Non credo Non credo Credo che quelli che abbiamo visto Sono quelli che c'erano Ma siccome non voglio uccidere Maero Solo a colpi di bazooka Ma voglio Ucciderlo Con la sua stessa arma Io devo puntare a Maero O alla sua macchina ora Oh è il meglio che posso fare Ne sei sicuro? Detto da quello che sta girando in tondo Cercare di investirmi Neanche io Maero Anzi In questo momento stai facendo proprio la figura del pagliaccio Perfetto Addio Maero È stato un piacere conoscerti Sappilo È stato divertente A parte che però l'ho visto che nella macchina c'aveva la camicia Maero Non vorrei dirlo Shoot me Any last words? Go to hell Sorry Didn't catch that Eh lo so Lo so Beh non è stato difficile Anche perché Maero era stupido Lo sappiamo tutti Ultra Arena Olds Bluffbeth 50.000 dollari Ci manca uno Solo Dei quartieri E avremo tutto quanto Il monster track di Maero Ovviamente tutti i viewicoli della Brotherhood E Personalizzazione Brotherhood Beh che dire Abbiamo sbloccato Pierce E basta Perfetto Beh che dire Che dire È rimasto solo un quartiere Ma due missioni Ma questa ce la portiamo avanti dall'inizio del gioco Beh Ultra Siamo solo io e te E l'ultimo quartiere è rimasto Prima però Rifornimento munizioni Credo sia d'obbligo Mi vado a comprare una macchina perché non ne vedo di belle Vediamo che cosa hanno da offrirci Una superior eh Non male Però solo di questo colore eh Vabbè Prendiamola Ottimo La cosa che mi chiedo è Mi appartiene già È dentro già il mio garage Non lo so ma visto che c'è già il meccanico accanto Vado anche a modificarla Beh dai Con la personalizzazione Non mi sono voluto trattenere Anche se il giallo sopra No Preferirei il grigio No beh dai Col tettuccio già così È molto meglio Andiamo a comprare anche le munizioni Vediamo com'è il turbo Oh la madonna È veloce però è comunque controllabile Rispetto ad altre macchine Eccoci arrivati Beh dai è carina come macchina È unica almeno Munizioni prese Direi che siamo pronti Mettiamo la macchina in garage E ci salutiamo qui Quindi signori Vi ringrazio tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti